Si chiude con un altro oro per l'Italia, l'European Pararcery Cup di Olbia. Ai nostri microfoni Stefano Travisani dopo il finale trilling della sua gara. Una vittoria un po' strana, per fortuna è arrivata, ogni tanto un po' di fortuna anche dalla nostra parte ci vuole. Ho tirato veramente un bel 6, perché stavo quasi festeggiando mentre la freccia era in volo, ma poi sono rimasto un attimo così e poi stava riaccadendo ancora la stessa cosa, ma sinceramente in quel momento io pensavo solo a tirare, fare del mio meglio, ma per fortuna poi è andata bene. Una squadra in forte crescita, comunque quella italiana, dei bei giovani alla ribalta e poi insomma i senior che continuano a fare da chioccia su tutti. Oserei dire il buono Rolli che però anche lui oggi non è riuscito a portare a casa loro. Sì, assolutamente, siamo veramente una squadra unita, molto forte sotto tutti i punti di vista, in tutte le discipline, sia maschile che femminile. Quindi io posso dire che stiamo lavorando bene, io mi sento parte di una fantastica famiglia e spero che questa famiglia ci porti lontano, molto lontano, dall'altra parte del mondo.